L'architrave di questo decreto della Presidenza del Consiglio Ministro è stato redato in Lombardia dal Presidente Fontana e da tutti noi nelle proposte che erano proposte di irrigidimento delle misure che erano già state colte. Il decreto è un decreto che ha elementi significativi e positivi, ha elementi che potevano essere migliorati. Noi avevamo forse chiesto un po' più di rigore, si era detto che chiudiamo tutte le attività commerciali tranne coloro che vendono generi alimentari o generi di prima necessità. Ci sono nell'elenco degli allegati alcune attività che forse potevano essere comunque chiuse. Abbiamo chiesto una stretta anche sulle attività produttive, valutando peraltro in grande sintonia anche con le associazioni di categoria quali erano le aree merceologiche, le aree di attività produttive che dovevano rimanere aperte per garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali o quelle attività strategiche, penso alle telecomunicazioni. O ad altro, qui ciò che è previsto all'interno del decreto è che le attività produttive possano svolgersi intanto nel pieno rispetto delle regole di sicurezza anticontagio e poi prevedendo alcune limitazioni, chiudere le parti che non sono legate alla produzione, chiudere le mense ed altro. Prendiamo atto di questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sicuramente va in una direzione giusta, c'è di dare un messaggio forte al Paese. Noi lo volevamo un pochino più rigido ma oggi non è il momento di commentare ma è il momento di attuare. Anche perché c'è il tema dei controlli e il Presidente Fontana sta già attivando incontri con i prefetti e con i sindaci affinché le attività di controllo delle forze dell'ordine e della polizia locale siano rigidissime e siano proprio orientate a verificare che le attività commerciali che rimangono aperte, le attività produttive che rimangono aperte garantiscono nella maniera assoluta prima di tutela dei lavoratori e poi a tutela di tutti i cittadini che si realizzino con il rispetto delle norme anticontagio.